Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Oh, Dio! Ok. Cioè, capito? Che fa tutto questo coso qua? Però immaginate senza sotto niente? Capito? Capito com'è? Cioè, questo è Lucilla palese, dai. Capito? Capito? È palese Lucilla? Raga, ditemi che non è Lucilla questo. Cioè, è senza felpa, immaginatemelo senza felpa. Cazzo le dedo? Dipende da cos'è, però tendenzialmente o XSSM o SML. Quanto sta? No, ma non è che... No, ma non è che l'acquisto per andarle a provare, raga. No, 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 no. Non è che l'acquisto, in realtà. Io vado a provarle tutte. Lollo, grazie per la sub. Se ti va a punto il schema di Instagram, sai che tu sei contro gli arresti. No, non è che le compro. No, ma vada, siete pazzi. Vada, siete pazzi. Ok. ok 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 no 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 che succede? cos'è quella felpa? cos'è quella felpa? signorina voghelita? oh vedo un choker vedo un choker vedo un choker molto bello vedo un choker molto bello hai iniziato a mettere questo? ah questa sì bella ci piace ci piace ci piace ci piace? ci piace cioè sicuramente non indosserei tipo il pantaloncino piccino lì però sì bello dai sì ci piace ci piace ci piace merde facciamo così va secondo me cioè per quanto ovviamente il concept è assurdo persona che deve essere giudicata e chi va in paradiso e chi va in inferno ovviamente è un concept assurdo però quando fanno vedere le storie personali delle persone primo livello primo livello primo livello sì yeah mi stai sulle palle però sei troppo buona senti hot close fammi un pottutissimo pompino bannato a vita madonna sei esploso proprio in questo momento non dovevi farlo sennò al massimo trattata beh su cammi e fammi la sub no oggi oggi vi banno tutti vi banno tutti no 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 madonna che casino ok ok questo è sangue vero? questo è sangue sì pronti con gli alert non vi azzardate ok se sono ci fosse trovato mo flexo mo flexo mo flexo in maniera assurda che dovete stare zi mo flexo in maniera assurda i miei i miei genitori quelli che mi hanno partorito grazie simonite per i 100 bits c'è una spiegazione valida per indossare una giacca di pelle in casa assolutamente sì infatti adesso ci arrivo fra tipo un'ora ehm perché puttana meno male che ho attaccato prima oggi così siamo in meno e mi evito mi evito le figure di merda aspetta ok ti va di venire qui e mangiamo insieme sì ma non è un no 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 tu stai giocare a megaman ok 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 non vuoi provare? sì lo so ma è un try un try ma è per ridere? vabbè che ti organizzi? è successo un casino? eh esplode tutto proprio ehi ehi proprio tu vado e lasciando la sub non succede niente eh? puoi anche non farlo però non rischierei se possibile grazie mille miss mckracken per l'abbonamento thank you so much non rischi niente tranquillo puoi anche non farla e puoi anche non farla però sarebbe meglio se la facessi così per non rischiare guardami intensivamente negli occhi non distogliere lo sguardo vi vedo che scrivete raga non dovete scrivere dovete guardarmi negli occhi e ascoltare le mie parole lascia una sub dai non succede niente devi fare solamente un paio di click prova si il giappone è una bella squadra a livello di collettivo grazie corocchientissimo ah così tu bestesi starnutisci questo qua era bello potente scusami sembrava volesti fare paura alle formiche là sotto no no qui la vedi? che cosa la vedo? allora non ci posso arrivare la... ok Gesusscritto grazie per la salva regalata la madonna la madonna su che cazzo ho Gesusscritto mi distorcio allora da qui lo vedo da qui lo vedo che cos'è che vedo da qui? mi distorcio mi distorcio mi distorcio non non No, non ti metto la soggezione che cambi strada Te fai una rocker? No Un bugger deve mettercelo per forza Per forza ci vuole il bugger Come faccio a trovare un'altra come te? Come faccio a trovare un'altra come te? Come faccio a trovare un'altra come te? Che cazzo significa? Perché non ti basto io, bro? Eh, se trovo... Se lo trovo... Daffanculo, bitch! Faccio il cazzo che mi pare, succhia Milano! Ovviamente no No, così, così Così l'outfit Dritta Dritta con quella schiena Baga Sembra che tu stia piangendo, poche Sì Porcellotto Brava Brava, brava Scusa vuol dire Ma hai fatto? Ok, brava Brava, brava, brava Ok Grazie Pinociosta per le cinque sabregate Parliamo di... Aspetta Aspetta Aspetta, aspetta Parliamo di storia dell'arte Non ha senso che la tocchi Ok Puttana tro... Madonna Che cazzo Perché mi ha fatto così paura la scorreggio Grazie Anonimo Porca tra quanto cazzo mi ha fatto paura Perché il momento in cui ha scorreggiato Ho toccato questo affare Andate a cagare Madonna che infarto di merda Ma vaffanculo Porcellotti Porcellotti State guardando Porcellotti Lucilla ma tu quando vai in bagno hai il tanga, no? Mh E fai la nuova cacca Devo andare un attimo Devo andare a fare... No Devo fare la pipì Ma te...